Clerks, Commessi, è un film del 1994 ed è l'opera prima del regista, allora 24enne, Kevin Smith. Chiariamo subito una cosa, io sono nato nel 88, sono cresciuto alla fine degli anni 80 e soprattutto negli anni 90. La parolaccia, un certo tipo di comicità, un certo tipo di film action, un certo tipo di idoli, soprattutto garantitimi dai telefilm che andavano in onda quando stavo a casa da scuola alla mattina, sono stati quelli che hanno di base creato un po' il mio immaginario, se vogliamo. E allo stesso modo, tutti quei telefilm e quelle serie che erano la base e che avevano delle impostazioni molto precise, nel momento in cui venivano definitivamente sdoganate, tale impostazione venivano sovvertite da qualche film o da qualche telefilm, ovviamente queste nuove opere mi diventarono dei cult. È per questo che ovviamente non posso che assolutamente dire che io ho già visto questo film, almeno una volta in realtà. Ho già visto Clerks, Commessi, e quindi tendenzialmente non avrei un motivo per recensirlo dopo averlo visto. È una rara occasione questa in cui però io mi permetto di commentare qualcosa che ho già visto. Perché questo? Perché è di quest'anno l'ultima iterazione, ultima cronologicamente per il momento, iterazione di quel duo di stradunanti personaggi che sono Jay e Silent Bob. Jay e Silent Bob sono due personaggi, interpretati rispettivamente da Jason, Mewiz e Kevin Smith, che nascono appunto in questo film. Nascono in questo film dalle fantasie di questi due strampalati, a tratti geniali ideatori, e sono due personaggi assolutamente irriverenti, sboccati, almeno uno dei due, e completamente fuori di testa, che finiscono in infinite avventure nel corso degli anni. Era il 1994 quando è uscito Clerks, il primo film in cui sono comparsi, e ad oggi, dopo tanti ruoli in tanti film, circa 9 o 10, se vogliamo contarne uno che sta per uscire, questa accoppiata di personaggi ha caratterizzato un certo tipo di cultura pop che si rifà moltissimo all'anno 90. Questo film, per certi versi, è un pochettino il film che, da quel che mi ricordo, ma rivedendo come pianifico i prossimi film del filone di Jay e Silent Bob, potrò eventualmente riconfermarvelo, questo film è forse quello più rappresentativo di quel tipo di cultura urbana di quegli anni. È un'opera fatta con due lire, anzi, con pochi dollari, 27.000 dollari circa, sono stati utilizzati e praticamente tutti quanti sono andati per riprese, produzione e per acquisto dei diritti. Fondamentalmente, quindi, è stato un trapolino di lancio, che ha avuto un ritorno del tipo mediatico, ma assolutamente scarso dal punto di vista economico, per il buon Kevin Smith, che però, di fatto, ha fatto la sua fortuna con questo film. È un film in bianco e nero, quello di Clerks, è un film in bianco e nero in cui, praticamente, la quasi totalità delle scene è ambientata in un supermercato, in un supermarket in cui lavorano Dante e Randall. Dante e Randall, interpretati rispettivamente da Brian O'Halloran e Jeff Anderson, torneranno poi successivamente anche in una versione aggiornata di Clerks, 12 anni dopo, in Clerks 2. In questo film sono agli loro inizi, hanno circa 22 anni e sono due ragazzi che fondamentalmente si arrangiano, non sanno cosa fare della propria vita, non hanno ben chiare le loro prospettive future, ma sono determinati a che cosa? Sono determinati a campare, in qualche modo. E, anzi, non sono determinati, semplicemente tirano a campare, mi correggo. È un film molto stranino, in realtà, questo qua. Questo perché? Perché, come le altre opere di questo regista, siamo a un continuo alternarsi di fasi, in realtà, molto realistiche ad altre molto grottesche, surreali. Io, personalmente, ho conosciuto Kevin Smith non con questo film, ma con Dogma. Ne ho un ricordo molto superiore, l'ho visto diverse volte e me lo ricordo abbastanza, però, anche quello, sarà interessante rivederlo dopo aver recuperato, nell'ordine cronologico, le altre storie. Chiariamoci, sono tutte storie più o meno scollegate, quelle dei film in cui compaiono i personaggi J.A. Silent Bob, però è interessante vedere, in qualche modo, l'evoluzione, o l'evoluzione del mondo del cinema, con questi due personaggi che, fondamentalmente, tendono a rimanere costanti e totalmente resti al cambiamento. Questo film, questo film è divertente, è divertente, è un po' non-sense e un po' realistico, come ho detto. Perché? Perché ne vediamo di tutti i colori in questo supermarket, ne vediamo di tutti i colori in questo supermarket in bianco e nero, ottima ritrovata, in realtà, forse un po' per mascherare la scarsa qualità dell'immagine, tra forse dei mezzi di ripresa, e un po' per non stare a troppo amenarselo con determinati dettagli e determinate dilungaggini produttive, del tipo posizionare la luce per bene, oppure fare attenzione a determinati colori che magari, su schermo o in ripresa, sarebbero venuti male. Dicevo, sono siparietti continui quelli che vediamo in questo film, siparietti continui che vediamo in questo film e, tra una parolaccia e l'altra, tra un'allusione sessuale e l'altra, scopriamo alcune cose nei nostri personaggi. Scopriamo le loro vicissitudini, fondamentalmente quelle di Dante, con la sua ragazza, e interessanti e carini, da un certo punto di vista realistici, dall'altro, forse nel 2019 non così tanto in questo modo, i dialoghi in cui si lamentano l'un dell'altro delle relazioni passate che ci sono state, relazioni in senso molto biblico, se vogliamo. Allo stesso modo, però, ho trovato divertente, anzi, in realtà, ancora di più, ho trovato divertente, i siparietti che alcuni dei clienti del supermarket, alcuni di questi clienti hanno fatto delle cose assolutamente fuori di testa e assolutamente, in maniera grottesca, realistiche, tutto sommato. Perché questo? Perché non è così impossibile pensare che ci sia un rappresentante che in qualche modo possa cercare di boicottare le sigarette solo per far vendere di più la marca che rappresenta di chewing gum. E allo stesso modo, non è così impensabile pensare che ci sia un vecchietto che abbia bisogno di andare al bagno, anche se il bagno, teoricamente, è del solo personale. E magari è capace anche a lamentarsi questo vecchietto, perché la carta igienica potrebbe essere di quella ruvida che gli provoca dei morroidi. E' una cosa molto divertente questa qua, o almeno io l'ho trovata molto divertente, mi spiace per chi non l'ha trovata tale. Ma chi non l'ha trovata tale avrebbe fatto bene a guardarsene bene dal guardare questo Clerks commessi. E ci sono poi altri siparietti divertenti, di nuovo dei monologhi più o meno della vagina o del pene e delle vicissitudini più o meno sessuali, come ad esempio l'ex ragazza ancora grande amore forse del personaggio di Dante, che si scopa quello stesso vecchietto che era andato in bagno e che, diciamo, ad un certo culmine della sua vicenda in bagno si è ritrovato un bell'infarto che l'ha stroncato. E' stato divertente poi, molto divertente, anche il pazzoide che andava a cercare di capire le dimensioni delle war, facendo test e contro test, cercando la dozzina perfetta. Sono personaggi disagiati, fondamentalmente la quasi totalità di quelli che vediamo in questo film ma penso che non sia così impossibile che con il flusso di gente che un venditore può vedere nel proprio negozio non è così, o un commesso, in cui nella fattispecie, non penso che sia così impossibile che scenette del genere possano accadere. Io ho degli amici che l'hanno lavorato nell'ambito dell'assistenza clienti, appunto, nell'ambito della compra-vendita appunto sono stati anche commessi e qualche siparietto comico me l'hanno raccontato. Questo film è grotesco, è da vedere in maniera molto leggera perché comunque non punta a chissà quale surrealismo che in realtà va a mostrare determinati elementi tragici della società per i quali bisognerebbe disperarsi o per i quali bisognerebbe prendere provvedimenti. È una distrazione, questo film è una distrazione assolutamente riuscita. E se in tutto questo tempo non ho ancora praticamente parlato del motivo che mi ha portato a vedere questo film ovvero Jay e Silent Bob, un motivo c'è. Fondamentalmente i due personaggi non fanno nulla, cioè sono delle macchiette di loro stessi ritagliati negli intermezzi tra uno sketch e l'altro, semi-sketch e l'altro di questo film e funzionano assolutamente bene. Io so che loro diventeranno anche protagonisti in produzioni successive e onestamente a fronte della loro efficacia che ho notato in questo film come ritaglio comico nel ritaglio comico, onestamente non saprei dire se è stato un bene che siano stati così emancipati o meno in futuro. Non importa, non importa e sarà comunque divertente godersi questi due personaggi nei pochi minuti che ci saranno. E ovviamente il caro Silent Bob, interpretato da Kevin Smith, nella nostra versione italiana soprattutto nei primi film prodotti appunto da Kevin Smith e con i primi doppiaggi dei primi film di Kevin Smith ha subito un adattamento, non è Silent Bob ma a sto giro è lingua secca. Non sarà il primo modo con cui noi italiani chiameremo Silent Bob ma sicuramente al di là di come potremmo chiamare il personaggio quel suo tratto distintivo, quel suo cappellino, con la sua barba, quel suo impermeabile, spolverino, quello che è questa sua sigaretta sempre di pronta e questo suo mutismo tranne in determinate occasioni è assolutamente un personaggio molto caratteristico di questi film urbani nati come B-Movie ma che poi forse per certi versi diventano anche qualcosa di più e qualcosa di meno che ha caratterizzato negli anni 90 e negli anni 2000 e che evidentemente siccome si è scelto di continuare quest'anno continuano a caratterizzare un certo tipo di cultura pop che personalmente non posso che apprezzare. Guardatevi Clerks Commessi e se vi piacerà non abbiate paura e continuate a recuperare i film con Jay e Silent Bob. Io lo farò e sarà un piacere dare questa nuova possibilità a questi due strampalati spacciatori della domenica.